Salve a tutti i corsari del web Io sono il Koisero e questa volta siamo di nuovo con la Toshiba perchè questo gioco non riesce a reggere la chroma key della webcam Quindi siamo qui, yeah, salve Comunque sia, quest'oggi per questo nuovo free to play Siamo su Dell Luminist E l'ho trovato, diciamo, facendo il contrario delle mie ricerche Allora, che cosa intendo? Nel senso che, invece di cercare dall'ultimo Sono stato intelligente, questa volta ho messo dalla data di rilascio E quindi questo è un free to play recente Cioè, è uscito nel 2019 di questo agosto, ho pensato un po' Quindi, signori, vando agli indugi Partiamo Nel tentativo di registrare naturalmente io ho già visto questa tipologia di menu No? Ed è meravigliosa Cioè, non... poco da dire Ben fatta, che segue come se qualcuno stesse seguendo questo minatore Vengo, qua già vediamo Missing Stay Green Medical Facilities Is Your Follow Miner's Indicator Is Red Ok Allora, è un gioco azione E... spara tutto, da quello che ho visto dalle poche immagini È molto interessante come potrebbe essere la storia Anche perché si tratta comunque di mostri in una miniera Però comunque, vediamo Story Mode, naturalmente Difficoltà? Normale Facile o difficile? Guardate, io non sono un tipo estremo Ok? Quindi noi cominciamo dal normale Breakdance Gamma Ehi, troppo buio Stavolta proverò a seguire un po' il concetto di YouTube Che tiene la luminosità Che... non mi ricordo qual è Forse la gamma, basta la gamma dello scu... Non lo so Aumento un po' la luminosità per voi Comunque, cosa vi faccio come... come tutti Ok, quindi Qua c'è questo minatore che scende in miniera Con questa... Musica proveniente da... Dai... Come si chiamano? Dai... dai... Megafoni Ah, ok L'ordine ha provvisto ogni lavoratore con un indicatore della salute Piazzato sulla propria spalla Questo indicatore usa i colori per segnalarci appunto il nostro stato di salute Verde e buona salute Rosso e cattiva salute Andiamo avanti Oh! Michael! Mi dica! Dai, di nuovo! Dai, questo generatore si dà sempre problemi Giuro che non sapevo Perfetto! Siamo bravissimi Va bene Grazie Michael A dopo Ok, ci siamo Ma questo deve essere il simbolo dell'ordine Bravest Powered Station Ok Chissà che minerai Perché questo barile è di un colore molto molto strano Ok, andiamo a questo dannato generator Eh, vabbè No, sono Vabbè, vabbè Usiamo la cosa da mangiare Eh, certo che però sono proprio sbadato E le chiavi di nuovo Ma sì, tanto Dei contenitori di robaccia blu Let's see Oh, run! Oh, accendere la luce da solo Che carino Aspetta un secondo Ah! Chi ha danneggiato il mio generatore? Bastardi Uè! Chi è che tiene le valore? Mamma mia Lo licenziamo dopo quello là Che tiene le valore aperte Eh Allora Questo deve essere Ok, prendiamo Ah, che cacchio L'avete capito? Sono succedute cose Tutte cose Il trasformatore Si è andato in sovraccarico Le storie sono falliti Tutto danno Tutto 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 È scoppiato tutto Ma chi ha fatto tutto ciò? Eh, mamma mia A rovinarmi La Crouch Che tasto scomodo c'è? Allora Andiamo a controllare un po' questo Ah, ok Dov'è questo dannato generatore? Voglio sapere chi è stato a fare tutte cose Ah, old Ok Ripariamo tutto Coraggio Good as new Sono bravissimi I due sistemi sono online Possiamo tornarci a casa? Speriamo che ci incontreremo presto Ma qualcosa mi dice che Faremo Caput Torniamo su, signori Alle Down Ehi Io volevo andare su Che succede? Ah, no, ok Dovevamo andare giù Però stavamo già andando giù Boh Brav What happened? Ah No Incidente Incidente sul percorso Incidente Abbiamo una capsula d'olio Dell'emergenza È molto prezioso Con un numero seriale Quindi Non so A parte il scopo di targhetta Non ci dice perché Deve essere usato Per emergenza Guarda Michael Non lo so Grazie Michael Sei molto gentile Eh 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 Comunque devo dire che il doppiaggio Mi sembra molto ben fatto Cioè il doppiaggio è bello Mi piace, aria sconosciuta Abbiamo trovato il pendente Non so cosa serva Allora, siamo nei cazzi amari Signori, siamo crollati dall'ascensore Eravamo troppi, eravamo troppi Lì sull'ascensore è crollato tutto È crollato, dovevo salire, ve l'ho detto che dovevo salire una volta Abbiamo preso un altro Use flare when acquired Ah, le bocciate blu sono dei flare Ah, interessante il tutto Ok Ok, per le povere Sono dei flare utili Queste capsuline blu Però se una volta buttate Il No, non c'è nessuno Non urlare così, che dopo ci attacca Vabbè, se certo lui non lo sa Io lo so Eh, ci sono cose scomparsi Eh, però ci sono questi funghetti luminosi Coccoli come Conarium Eh, altro, altro, altro Prendiamo altre robe Eccoli, guardate dove li Ma proprio Li metta addirittura E quindi comunque Ben fatto, eh Gli antichi Ma siamo veramente in Conarium Wow Ragazzi, guardate che potrebbe essere qualcosa di Lovecraft Senza che io lo sappia E dopo vado a leggere Perché non avevo letto la descrizione Hello Ehi Quanti flare Sì Sono ferito Probabilmente cercherò cosa significa in tedesco C'è aiuto? The shrine The shrine è tipo Tempio La rovina Da Oh Daisy No, il culto degli antichi dei è qua C'è incenso Che carino Che inquietudine Oh Porca Merda Ok Ci ha insegnato una meccanica di gameplay interessante Corri Michael Corri Cazzo Ci sta inseguendo Ok, ok Ragazzi Dove scappare Scappa Croce Aiuto What are those things? Ma che paura Ma a quanto pare non può passare in questi cunicoli Strano Mi sarei aspettato di sì Però Mi dai anche paura E' un olio molto potente Dice Della seconda rivoluzione scientifica Aree esaminate Come faccio ad esaminare le aree? Signori Le aree Mamma mia Ce la sono vista Bruttissimo Guarda Michael Se mi senti Vaffanculo Oh Medikit Adesso viene Ragazzi Siamo Rivoluzionari Non c'è solo Abbiamo giallo Abbiamo inventato il giallo Cave Ah ecco come si spezza Belli Non esaminerò più le cose Inutile Michael Michael Esatto Monsters Tenti anni fa E che cazzo Michael Fanno tu Andiamo avanti Must be kept close Chiodila Posso costruire un'arma Per difendermi da solo Ma che E' già costruita From the mushrooms Ah quindi Olio di fungo Oh wow Ah Proiettili a Aria compressa Nail gun Oil combustion propulsion Quindi funziona con la Combustione dell'olio The order Thank you for your Cooperation Immaginavo di doverlo rompere Signore Andiamo avanti Dobbiamo uscire da quest'area Riempiamo il co Eh vabbè Ah Spare rapidamente Sovraccarica l'arma Mortacci sua Cool Ah cool weapon Con R Ah Devo veramente Oh Non sa scavalcare Lui spara Ah è quello Il gate In realtà è anche più vicino Di quel che pensassi In fondo Oh no Un altro robo Dei si Di village E sarà pieno Di cultisti qua C'è un'arma eh Se venite fuori Sparo Beh fatta Adesso che abbiamo Vertito tutti Make your offering Ma col cazzo Faccio la mia offerta Io non te che idee Devono essere stirpati qua Stiamo molto attenti A quello che facciamo Dove mettiamo i piedi Soprattutto Se incontriamo Altri di quei mostri Dobbiamo farli saltare La testa Eh vabbè Ah ok ok Quindi dobbiamo Dobbiamo trovare Il generatore Qui in mezzo No Siamo sicuri Siamo sicuri Pensavo fosse un passaggio segreto Ah Si può crociare Anche con control Ci sono strane risate Qua in giro E' stato chiuso qualcosa Lì Va bene Che paura Allora c'è un medikit Eh la musica che si fa sempre più forte Sono bravetti eh A fare Terrore psicologico Beh il fondo è anche pieno di funghi Quindi possiamo Rifornirci per bene Non pensavo che un free to play Mi mettesse Suggestione Fino a questo punto eh Stiamo molto attenti A dove guardiamo Warning Unstable Grazie Che brutto posto Dove mettere un generatore Ripariamo Eh la porta è aperta Dubito che sarà così semplice Ritornarci Ehi Che paura ho C'è una medaglietta qui Perché là Quell'area illuminata di rosso Non respawnano Vero Andiamocene da qui Cosa succede Cazzo Ma che ca... Ai Scappa 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 La La loro hitbox della luce Non funziona troppo Andiamocene Scappa Michael Scappa No No Non siamo Michael Che da Corsari Ce l'abbiamo fatta Oh Complesso govern... Governativo Beh Interessante Questo deve essere Il valalla dei funghi Ed è Tra pieno di framerate A quanto pare Mi sono abbassato tantissimo Io intanto nel mentre Non me ne ero accorto Fire Charged Shot Wow Bello A mo' di granata Eh Però Consuma tanto fungo Eh Maledetto Che succede? Tutte queste visioni Stiamo impazzendo Per caso Ah Devo fare il rinforzato Guarda un po' te Vai Alla dietro c'è una besta Che sta mangiando Io non ho voglia Assolutamente Di andarci Oh Una targhetta E prendiamo i collezionabili Finché possiamo A sto punto Eh oh Se siamo costretti Allora No ragazzi Guarda Non possono fare così Dai Dai Non è giusto C'è Muori No Che cazzo di colpo Guardate quanti medic Ci sono qua Fatti apposta Che cazzo Perfetto Perfetto In realtà Perfetto Neanche troppo Avviando Questa No No Non può essere ancora vivo Ok 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 morto E' morto E' morto E' morto Perca miseria Colalo Colalo C'è un percorso Perfinito Cacchio No Non è vero Basta Sono scemo Sono scemo Sono scemo Sono scemo Non riuscivo Scemo concludere qua Questo video Su questo free to play Devo dire che A primo acchito Il gioco Comunque sia Di texture E' carino C'è Ok va bene Non dobbiamo comunque Pensare Ai giochi Tripla No Come vi sempre dico Bisogna Classificarlo Come free to play No Come free to play Io vi dirò che E' molto Ben fatto C'è cavolo Le texture Sono Fatemi vedere qua Se proprio vogliamo essere Pignoli No C'è Questa macchia Un po' di discorso Dalla sabacu Questa macchia Grossa Più grossa E' diversa Da questa macchia Altra Grossa Più grossa Quindi Non hanno preso le texture E appiccicatela Con photoshop No no Queste qua Bravi bravi Hanno messo texture Molte texture Diverse Comunque Appiccicate in modo tale Che sembrano essere Comunque Tutte diverse Cioè Comunque sia di texture Loro Hanno colpito appieno Anche il modello del personaggio Molto ben fatto All'amo di Minator Appunto Un po' staccano vista Gameplay Gameplay Lo dico Molto intuitivo Il fatto della fascia Per la salute Molto interessante Il fatto di come si ricarica L'arma E anche del tipo Di Di arma C'è un'arma Olio compresso Olio combustione Cioè Che puoi caricare Puoi sparare Così velocemente Molto bello Devo dire Una pecca Che posso dare È ai mostri Allora Come avete potuto vedere I mostri hanno Ovvero anche con L'intelligenza artificiale Hanno diverse Pecche Allora Innanzitutto Questi qua Sono un po' Strani Perché Ti saltano Addosso Però Non fanno Una vera e propria Animazione Di saltare addosso Almeno mi è sembrato Forse sono scemo Riguardano nel video Però nel caso Io vi dico questo Poi un'altra cosa È che Loro Vedono La luce Anche oltre Gli oggetti Cioè Questo Può essere un fatto positivo In gameplay Però In fatto di Giustizia No Perché se Il mostro Effettivamente È coperto Dalla luce Non dovrebbe Giovarne Negativamente Dovrebbe Cercare una strada Per raggiungerti A quel punto Vedere la luce Così A parte quello Le animazioni Di attacco Sono carine Ed è anche carino Il fatto che Quando ti colpiscono Vedi il graffio Là sullo schermo Avrei apprezzato Più graffi Perché se Erano Se sono stati capaci Di fare Un tale lavoro Di texture Non mi sarei sorpreso Se fossero stati capaci Di fare graffi In diverse direzioni Quando ti colpivano No Anche il doppiaggio Per quel poco Che abbiamo sentito Era buono Cioè Cavolo A me il doppiaggio Mi è sembrato Buono Michael preoccupato Era proprio sembrato Preoccupato E il nostro Amico qua Che è bello Calmo Cioè nel senso Calmo il giusto Nel senso che Ragiona con la sua testa E si chiede Che cosa fare È qualcuno È qualcuno Che mantiene Il sangue freddo In queste situazioni Era questo il tono Molto molto ben fatto E beh Signori Io che direi qui Questo Video prova Dei Questo free to play Il gioco in questione È dei luminist E È molto carino Se volete giocarlo È free to play Lo trovate su steam E Devo dire Niente male affatto Mi è piaciuto Questo gameplay E signori Spero che il video Vi sia piaciuto Come al solito Vi lascio in descrizione Il link per la mia pagina In instagram Condividete il video Per supportare il canale E noi come al solito Ci vediamo Nel prossimo appuntamento Di nuovo free to play Prossima settimana Arrivederci Weew